Sanno camminare la scuola italiana, sono in ogni istituto, insegnano ogni tipo di materia, eppure la loro vita è appesa al sorteggio dell'incarico annuale o al risico delle sostituzioni. In Italia ci sono 130.000 supplenti, insegnanti precari che forse non avranno mai la cattedra, un numero enorme per cui il nostro paese è stato più volte richiamato dalla comunità europea. Hanno tra le mani il capitale umano del futuro, i ragazzi, eppure per insegnare viaggiano tutta la notte, corrono da una scuola all'altra e spesso senza nemmeno la certezza di essere pagati. Come è successo a Prato, poco prima di Natale, lo stipendio degli insegnanti è stato tirato a sorte. I precari della scuola, che ogni anno aumentano, sono il paradosso che nessun ministro dell'istruzione è riuscito a risolvere e a farne le spese sono i ragazzi che spesso non sanno più che faccia abbia il loro prof. Le vite di questi insegnanti sono vite appunti, appese a graduatorie, a classifiche, pendolari del sapere, cheppure dicono ancora in gran parte di amare il proprio lavoro.